alle precedenti elezioni europee ad una percentuale importante, superiore rispetto anche a quella di Terracina, dove Terracina esprimeva anche un parlamentare importante della Lega. Non pensate che il vostro successo, non solo elettorale ma anche politico, perché il vostro pensiero si era radicato appunto, poi si è di un gruppo radicato che ha lavorato bene, non pensate che quello è il problema, che un onorevole come Zicchieri essendo onorevole a Terracina non è riuscita a fare quello che avete fatto voi a Fondi. Ma sicuramente uno dei problemi è stato anche questo, quando un gruppo cresce a dismisura per persone che politicamente non sono così preparate diventa un problema, infatti questa situazione è stata proprio gestita male dal coordinatore regionale, il falimento di tutta questa situazione è proprio il suo, perché lui c'erano le possibilità di poter esprimere il primo sindaco della Lega a Fondi, è stato proprio un atto voluto di non poterlo fare, di non volere esprimere il sindaco, sarebbe stato comunque per lui una sconfitta, o comunque la Lega a fare questo buon risultato che l'avrebbe messo probabilmente in ombra. Grazie a te.